De Cavalli, ricorderete, Enrico Montesano, Gigi Proietti. Allora, sono in otto al via, Sonar Gas, Sandro degli Ulivi, Slese dei Greppi, Santa Luzia, Sassari, Sonny Club in seconda, Sakila, Special TRGF, va davanti come prevedibile Santa Luzia. Su Sonar Gas con all'esterno Sassari, prima curva con Sassari che sbaglia, Special TRGF nel retrovie di galoppo, sbaglia anche Sandro degli Ulivi, in vantaggio è Santa Luzia su Sonar Gas, Sonny Club, poi Sakila, ancora Slese dei Greppi, Sassari rimessa. 15.3 il lancio, Santa Luzia-Battistrada alla chiusura dei 400 in 31. Un paio di lunghezze abbondanti su Sonar Gas che precede Sonny Club, poi Sakila, Slese, Sassari, Sandro, lontano, Special TRGF. 17.3 di terza frazione, 48.5 per i primi 600 metri, muove Sonny Club a 900 dal palo, va ad incalzare Sonar Gas che segue sempre Santa Luzia. A contatto Sakila, poi Slese, Sassari e Sandro, il giro è andato in 1.3 abbondante, valli che affrontano la penultima curva con in vantaggio sempre Santa Luzia. Special TRGF squalificato. A largo, in corda Sonar Gas, a largo Sakila, poi Slese a dei Greppi a 500 alla conclusione, dopo un chilometro in 1.20 molto scarso. Santa Luzia al comando, a largo Sonny, in terza Sakila, di dentro Sonar, in bocco della curva conclusiva con Santa Luzia che ha allungato, c'è un 15.1 per la retta opposta alle tribune. A ridosso Sonny e Sakila, poi Sonar Gas, ingresso della retta dell'arrivo, Santa Luzia in vantaggio, Sonny che prova l'aggancio, poi Sakila, Santa Luzia, Sonny Club all'attacco di Santa Luzia. Sonny che rimonta a Santa Luzia e sul palo, Sonny Club vince su Santa Luzia, Sakila, Sonar Gas e Slese a dei Greppi. L'aveva fatto vedere di essere un cavallo con delle buone qualità, Sonny Club. Vince alla grande al debutto in percorso manovrato e a quota molto ricca di 12.34 con Edoardo Baldi al training in salti, colori della scuderia Baldi Group, poi Santa Luzia, Sakila e Sonar Gas. Vediamo anche il tempo al chilometro, 1.17.5, un debutto con i fiocchi.